La sincerità invece l'esprimo attraverso questa creazione fatta alcuni anni fa che ho chiamato il mondo di cristal perché ogni componente che ho voluto mettere è di cristallo, trasparente trasparente come deve essere il linguaggio, il parlare, il comunicare la sincerità è una parte essenziale dell'essere umano di colui che vuol divenire tale la sincerità è la trasparenza di ciò che si è essa stessa è lo specchio del nostro animo, del nostro essere di ciò che noi siamo fra gli altri sincerità è trasparenza, limpidezza verità